Signore e signori, buonasera e benvenuti con questo appuntamento con informazioni locali di Radio Tela Pennino Parma di questo lunedì 17 di ottobre. Iniziamo con due notizie di cronaca, uno riguarda un incidente avvenuto in casa nella zona di Terenzo nella mattina di ieri dove una donna che stava per accendere la stufa ha fatto l'errore di accenderla con il boccetto dell'alcol. Un ritorno di fiamma l'ha coinvolta. Da lì è partita la chiamata al 118 che ha mandato sul posto sia i vigili del fuoco che l'ambulanza di Calestano. La donna è attualmente ricoverata nel reparto grandi ostinati dell'ospedale maggiore di Parma. Tra i motivi per cui le ostioni sono state abbastanza importanti è legata al fatto che aveva addosso anche un capo di abbigliamento in fibra e sintetica. Il trasporto, anche se retta l'ambulanza di Calestano, è avvenuto con l'elisoccorso di Parma che è arrivato sul posto e l'ha portata poi verso l'ospedale maggiore per essere ricoverata, come diciamo, nel reparto grandi ostionati. Nel pomeriggio, meglio tarda sera di ieri, un incidente stradale è avvenuto invece lungo la strada che da Bardi porta verso il passo del Pelizzane, poco dopo Bardi, nella zona dove si trova l'isola ecologica in quella zona lì. Insomma, un autoveicolo guidato da due persone, due uomini del posto che svolgono l'attività di boscaioli. L'autista ha perso il controllo dell'autoveicolo andando a sbattere contro un albero. Sul posto sono intervenuti immediatamente i volontari della Croce Blu di Bardi e la centrale operativa 118 ha mandato in supporto anche la macchina infermieristica della Croce Bianca di Varsi. Giunti sul posto si sono resi conto che le persone coinvolte erano due, a questo punto è stata inviata sul posto anche una seconda ambulanza della Croce Bianca di Varsi. I sanitari arrivati sul posto hanno cercato di stabilizzare le condizioni dei pazienti e poi hanno perseguito verso l'ospedale maggiore di Parma, sirene spiegati, in quanto le condizioni di saluto di uno dei due erano preoccupanti. E questo ovviamente con la presenza del determinante infermiere della Croce Bianca di Varsi che ha permesso quindi di dare l'assistenza sanitaria sufficiente per poter intervenire. L'elisoccorso, da quello che abbiamo capito visto che era già buio, non è potuto intervenire e per quel che riguarda la questione automatica sappiamo le difficoltà che ci sono attualmente sul nostro territorio. Continuano le questioni relative all'ospedale di Borgo Valditaro con un comunicato stampa che ci è arrivato. Il consigliere di Fratelli d'Italia Tagliaferri, il consigliere regionale di Fratelli di Italia Tagliaferri, torna sulla questione. La regione ha forse l'intenzione di replicare gli errori compiuti con la chiusura dei punti nasciti avvenuti prevalentemente in territorio montano, ma non c'è speranza che Bonaccini e i suoi assessori possano imparare dai disastri compiuti? Con queste domande il consigliere di Fratelli d'Italia Giancarlo Tagliaferri torna sul progressivo smantellamento dei servizi in atto presso l'ospedale di Borgo Valditaro e in un'interrogazione chiede puntualmente conto dei disservizi denunciati dai cittadini. In primis voglio capire se le limitazioni orarie denunciate dai cittadini, prosegue Tagliaferri, siano confermate come decisioni strutturali e in caso affermativo chiedo quali siano i rilievi e le valutazioni che hanno condotto a tale decisione. Fin da subito però denuncio la più totale ambiguità nella mancanza di informazioni rese alla cittadinanza unitamente ad un modo superante che si è sempre ben guardato dal coinvolgere in ogni decisione la comunità che afferiscono all'ospedale Santa Maria. Per Tagliaferri la regione Emilia Romagna sta perseguendo un disegno di depotenziamento della rete sanitaria territoriale per concentrare ogni sforzo sulla creazione di megastrutture del tutto inefficaci e inefficienti e così facendo nega a tutti noi il diritto costituzionalmente sancito alla salute. Questo è il comunicato che ci è arrivato. Andiamo avanti, adesso rimaniamo ancora a Borgo Valditaro, ci sono anche notizie positive, sono arrivati o arriveranno 2 milioni e 800 mila euro da spendere nelle valli del Taro e del Ceno, grazie alle unioni delle valli del Taro e del Ceno, un incontro per spiegare come sono arrivati, come saranno spesi, c'è stato lo scorso fine settimana, c'era per noi Pierluigi Previ, c'ero peraltro anche io tra le persone presenti, non so se riuscite a vedermi. Vi lascio il servizio. Una nuova forma di gestione coordinata e condivisa del territorio all'insegna della sostenibilità. È un progetto che ha vinto il bando del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Grand Community, coordinato dall'Unione dei Comuni delle valli del Valditaro e del Ceno. Più che un progetto singolo si tratta di ben 16 progetti che investono un po' tutto il territorio della Valditaro o del Ceno. Sì, il bando prevedeva 9 ambiti legati ai temi della green, dell'economia verde e della sostenibilità, dal turismo alla mobilità sostenibile, dalla certificazione forestale alle imprese verdi, quindi i caseifici verdi e l'Unione a fare un po' da collante territoriale per tutte queste possibilità che nei prossimi anni, fino al giugno 2026, saranno messe in campo in questo territorio. La Regione ha appoggiato questo progetto che va a completare delle leggi regionali in tal senso, quali il recentemente approvato Piano di Sviluppo Rurale. Questo è un classico esempio di lavoro comune tra istituzioni e non solo tra istituzioni, ma anche tra territorio. Nel territorio ci sono imprese, nel territorio ci sono professionisti, nel territorio ci sono associazioni e c'è la pubblica amministrazione. Ecco, questo è il risultato di un lavoro importante che questa Unione, che l'Unione Val di Tariceno ha fatto, di sintesi, di coordinamento, per arrivare a un risultato che credo sia uno dei risultati più importanti che negli ultimi 20 anni siano arrivati sul nostro territorio. 2 milioni e 800 mila euro, tutti insieme, credo che siano anni che non si sono mai visti, che non si sono più visti. Quindi è importante ed è un ringraziamento, un applauso. la funzione che ha l'Unione e il Presidente Mariani che ha portato a termine e ha portato un risultato importante per il nostro territorio. Quindi l'Unione serve? Sì, l'Unione ha questa funzione, partecipare a questi progetti, a queste strategie di territorio, perché non dimentichiamo che il bando Green Community sia un bando di territorio, è un bando di comunità, a cui hanno contribuito non solo l'Unione stessa, che ovviamente era deputata a farlo, ma anche i singoli sette comuni, ma non solo i comuni, ma anche l'associazione e i privati. Per questo diciamo che è un progetto di sviluppo che guarda al futuro ed è soprattutto un progetto di comunità. Si tratta soprattutto di un cambio di strategia rispetto al passato. I comuni che lavorano insieme sono determinanti per dire cosa sono nel futuro, nella sostenibilità, nella decarbonizzazione, nell'essere protagonisti di un percorso green a misura di comunità nel quale lo Stato è vicino ai territori. Progetti anche per la zona di Bassavalle. A Fornovo infatti nello scorso fine settimana c'è stato un appuntamento per poter iniziare a pensare, o meglio, iniziare una progettazione partecipata per un'area che è oramai lasciata a se stessa da molti anni, parliamo dell'area della stazione ferroviaria, tanti gli spazi disponibili e tante le possibilità per farsi un'idea su cosa fare. Per il momento è partito questa fase iniziale di progettazione partecipata. A Rozza si parte è il titolo che abbiamo dato all'evento di oggi. Si tratta di un primo incontro partecipativo aperto al paese, ai cittadini, ai cittadini in senso lato perché oggi sono presenti persone e associazioni non solo di Fornovo ma anche di Medesano, di Parma. Il tema qual è? La rigenerazione urbana di un quartiere che ha visto, quello della stazione, che si è visto cambiare nel corso degli ultimi vent'anni, da luogo pieno di vita, di persone e di funzioni, quindi di tante attività, a luogo solamente di transito. L'operazione virtuosa che è stata avviata negli anni scorsi e realizzata, realizzando quindi il presidio della Polizia Locale negli ex locali Polfer, è stato sicuramente un esempio virtuoso. Da qui l'idea di riflettere su altri spazi inutilizzati perché il presidio della Polizia Locale è importantissimo, però se noi andiamo in stazione è un luogo senza una vita sua di funzioni nuove. Questo è il primo incontro pubblico rivolto ai cittadini, quindi un primo ingaggio. In realtà si è costituito un gruppo di lavoro ed è stato un gruppo di lavoro spontaneo perché come amministrazione, come persone, come sindaco, incontrando le diverse realtà associative, cittadini, molte volte mi venivo offerto un progetto, una collaborazione, un'idea mancando però gli spazi per realizzarli. Ci sono tre ambiti importanti che sono usciti dal tavolo di lavoro preliminare rispetto a questo primo incontro pubblico che possono essere individuati con la parola sostenibilità, cultura e formazione. Questi sono gli ambiti di lavoro sui quali si sta lavorando perché proprio lì sono emerse le disponibilità e anche i bisogni di quel quartiere in particolare e di quella zona in particolare. Su questi tre leitmotiv oggi pomeriggio abbiamo aperto quattro tavoli di partecipazione dove ci sono le persone adesso che stanno discutendo riguardo quattro approcci diversi rispetto al come far rivivere questo spazio. Si tratta di un primo ingaggio, vedremo alla fine dei tavoli partecipativi, quali idee saranno emerse. Continuano i video per portare l'attenzione sulla situazione relativa alle ferrovie, alle condizioni di sicurezza nell'ambito ferroviario ma non solo, anche di degrado e di buon utilizzo dei treni. E questo ad opera sempre di Michele Bianchi, vediamo il servizio. Nei giorni scorsi diversi messaggi, diverse mail sono arrivate da parte di utenti di un treno ed è l'17409 in partenza da Parma alle ore 9.58 diretto a Bologna. È un treno particolarmente pieno di utenti. Fino a qui la buona notizia è che finalmente si riscopre il piacere anche di poter viaggiare sui mezzi pubblici con un notevole risparmio sia a livello economico che ambientale. Però dall'altro tante lamentele perché questo treno sarebbe eccessivamente affollato. Siamo andati nei giorni scorsi a controllare la situazione e vediamo com'è andata in questo servizio. Ora scusate se le immagini non erano perfette al 100% ma si deve tutelare comunque la privacy dei vari passeggeri del treno. Certo è sì, era un treno particolarmente pieno per cui diventava difficile anche riuscirsi a spostare. L'effetto era quello un po' delle sardine. Vi consiglio che si può dare così in maniera molto veloce quella di prendere o il treno prima o il treno dopo quando ovviamente questo è possibile. Comunque gireremo la denuncia, la segnalazione più che denuncia che voi avete fatto attraverso la radio e attraverso anche altri canali. Per quanto riguarda invece alcune cose che sono state fatte che non sono piaciute, qua si torna a parlare sul discorso sicurezza che un paio di soggetti non ben definiti si sono divertiti anche a sputare per terra così in mezzo alla gente. Il gesto sicuramente molto incivile e credo non meriti altri commenti. Per quanto riguarda invece le altre vicende, sì, continuerò la mia battaglia per far sì che sui treni e sugli autobus ci sia più sicurezza in modo tale che nessun operatore, che possa essere questo un capotreno, un macchinista, abbia ancora a che fare con violenze subite. Qualcosa si è mosso, qualcosa si farà ancora, ma ripeto l'appello alla politica, occorre intervenire immediatamente. È già tardi, per favore, fatelo subito. Parte in questi giorni la vaccinazione anti-influenzale ad opera dell'azienda ospedaliera. Sono a disposizione 1.150.000 dosi che potranno aumentare fino a 1.380.000 ovviamente a livello di tutta la regione Emilia-Romagna. Obiettivo è rafforzare ancora di più l'offerta per le persone ad alto rischio di tutte le età e evitare coinfezioni con il SARS-CoV-2, con il Covid. Per l'assessore regionale Donnini tutto è pronto per partire. Importante è non sottovalutare il virus dell'influenza e mettere in sicurezza le persone più fragili. Quindi parte la vaccinazione anche per l'influenza tradizionale, come capita tutti gli anni per i periodi invernali, quando siamo più esposti a possibili contagi a causa del caldo-freddo, ma anche della chiusura dei luoghi in cui ci troviamo, con minore areazione. E adesso andiamo invece nella zona di Bassavalle perché c'è una notizia che riguarda l'affidamento delle alloggi di dirizia residenziale pubblica. Infatti vi è l'apertura da parte di Acer Parma per conto dell'azienda Pedemontana Sociale, l'azienda che si occupa del sociale nei territori di Collegio Filinos, La Baganza, Traversetto e Monte Chiarugolo, per l'assegnazione degli alloggi dell'edilizia residenziale pubblica nei cinque comuni dell'Unione. Ve le ripeto, perché ci sono anche nel comunicato, Collegio, Fellino, Monte Chiarugolo, Salabaganza e Traversetto. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online, attraverso lo SPID, a partire da oggi, 17 ottobre, fino al 2 dicembre. Quindi parte da oggi la possibilità di fare richiesta di avere un alloggio di residenza popolare, e quindi le famose case popolari. Adesso noi andiamo avanti con il nostro telegiornale e vi proponiamo un servizio di cultura, un appuntamento importante per le donne all'auditorio Musconi, a Borgo Val di Taro, nella giornata di ieri, per parlare proprio di donne, di scrittura. Vediamo il servizio. Siamo a Borgo Taro, una giornata davvero, davvero interessante, perché abbiamo parlato di donne e ho avuto la fortuna di presentare la collana femminile singolare, che è la collana che dirigo con l'Amorellini Editore, in cui voglio raccontare, attraverso ovviamente le penne di grandi scrittrici, le grandi donne del passato. E quindi oggi abbiamo parlato di Anna Politoskaya, la giornalista forse più coraggiosa e anche più simbolica di questo anno, particolarmente difficile. Abbiamo parlato di Gala Dalì, che è stata la moglie sia di Paul Éloire che di Salvador Dalì e che forse questi due grandissimi uomini, chissà se avrebbero avuto lo stesso successo senza i consigli preziosi di Gala. E poi abbiamo parlato della fragilità e anche della capacità di raccontare i sentimenti di Silvia Plath, la grande poetessa che sembrava avere tutto ma che un giorno ha messo la testa nel forno e ha deciso di finire la sua vita. Questa collana vuole raccontare le grandi donne del passato perché senza il passato facciamo fatica, davvero fatica a costruire il futuro e le donne oggi più che mai ne hanno davvero bisogno. Adesso lasciamo spazio ad alcune decine di secondi di pubblicità ma non andate via perché subito dopo c'è la parte del telegiornale, l'altra pubblica del telegiornale che riguarda lo sport con anche i risultati di calcio di questo fine settimana, del calcio dilettantistico, ma anche una bella sorpresa finalmente per il basket. Fiera del Tartufo a Bedonia negli ultimi due weekend di ottobre. Presso lo stand enogastronomico in Piazza De Gasperi, domenica 23 ottobre alle ore 11, Emilia Wine Experience, degustazione di vini dei Colli Piacentini e Salumi Dop di Parma e Provincia. Domenica 30 ottobre alle ore 11, l'Artusi d'autunno in Appennino, laboratorio enogastronomico con degustazione. Per l'intera durata dell'evento, pranzi e cene nei ristoranti del paese con menù a tema, mercato di prodotti enogastronomici, giochi gonfiabili per bambini. Fiori freschi e finti, piante, decorazioni per cerimonia, bucchie da sposa e non solo. Questa è la fioreria 5 petali a Varano Melegare. Chiamateci al 370-3136-491. Elettrotaro Fornovo. Televisori, cucine, piccoli e grandi elettrodomestici, telefonia, impianti wifi e tanto altro. Elettrotaro a Fornovo, via nazionale 127. Moranoleggi a Fornovo-Taro, piattaforme aeree, gru e tanto altro. Telefono 0525 2234. L'estate sta finendo, ma da Baudassi non finiscono mai le sorprese. Prezzi bassi anche per questa volta. Essicatore Tauro rettangolare in acciaio inox, 6 cestelli a 329. Zaini per funghi a 59 euro. Lavatrici chilogrammi 5, Nikkei a 259. Stufa a legna, per scaldarvi bene, nordica. 5 kilowatt ad euro 299. Ragazzi, da Baudassi i prezzi sono sempre più bassi. Presso il supermercato Carrefour Bella Tradizione a Bedonia, vi aspettano novità importanti. La rosticceria con polli e piatti di gastronomia cotta ogni mercoledì e sabato mattina. La nuovissima linea di gastronomia pronta surgelata, solo da scaldare in forno o al microonde, sia dolce che salata. Prodotta direttamente da noi per offrirvi la possibilità di avere sempre a portata di mano le nostre specialità. Supermercato Carrefour Bella Tradizione a Bedonia, qualità senza compromessi. La mia osteria è il luogo giusto per una serata in compagnia, a San Martino Sinsano di Collecchio. Ne combiniamo di tutti i colori, ma solo con il tintometro. Da tutto Casa Varsi, Casalinghi e Ferramenta, continua anche la promozione sulle stufa pelle e legna. Savio, di sbrigo pratiche, sale del commiato, reperibilità 24 ore su 24. Savio, a Varano Melegari e Varsi. È evidente quando hai bisogno di un apparecchio acustico. Vieni a provare i nuovi apparecchi nel nuovo centro Acoustic System a Borgotaro, in via Corridoni 38. Rieccoci, partiamo con la parte che riguarda i risultati calcistici di questo fine settimana, i risultati di calcio che hanno coinvolto tante squadre del nostro territorio. Il servizio, come sempre, è a cura di Emanuele Berni. Un weekend di grandi soddisfazioni per quasi tutte le formazioni locali. Ancora non ingrana il Solignano, in promozione, sconfitto 3-5 in casa contro il gotico Garibaldina. Sotto nella prima mezz'ora per 0-2 la squadra di Bertani ci mette pochi minuti a reagire. Al 39esimo e al 42esimo segna una doppietta palumbo e rimette il match sui binari dell'equilibrio. Rimonta completata al minuto 45 quando segna Alinovi e porta il Solignano in vantaggio momentaneo per 3-2. La ripresa, però, si riapre come i primi 20 minuti. Il gotico pareggia al minuto 12 e torna davanti con doppietta di visconti al minuto 20 e al minuto 33, sigillando il risultato del definitivo 3-5. Solignano attualmente ultimo ad un solo punto. Se la passano molto meglio, invece, in prima categoria Terre Alte e Valtarese. I ragazzi di Setti vincono 2-1 in rimonta al Bozzia contro il Viadana. Partita in salita, soprattutto dopo il rigore sbagliato da Ocorua sullo 0-1 per gli avversari. Per siglare il pareggio è necessario un autogol avversario al cinquantesimo. E' Carpani l'eroe di giornata, che allo scoccare del minuto 90 sigla la rete del definitivo 2-1, che consente alla Valtarese di mantenere stabili le radici nei primi posti della classifica. Altro pareggio del Terre Alte Berceto, 1-1 in trasferta sul campo del Montanara Calcio Ducale 61. La rete bercetese arriva dal solito Gianmarco Cavazzini. Grande prestazione in trasferta del Compiano in seconda categoria. La squadra di Galimberti vince 1-3 in trasferta sul campo della capolista Scandenberg e si proietta in prima posizione a pari punti con il Lesignano. Il solito Miai finisce due volte sul tabellino dei marcatori e Calchini sigla il terzo gol. Vince 1-3 anche il Bardi, fuori casa contro il Football Club 70. Cosentino e una doppietta di Bongi portano i ragazzi di Cattani a 10 punti in classifica, meno 5 dalle capoliste. Ancora una delusione invece per la Bedonese, sconfitta al Capitelli di Borgotaro, 0-2 dall'Astra, diretta rivale per la salvezza. L'emblema del periodaccio della Bedonese lo si può fotografare sul finale di partita, quando Bracchi dal dischetto calcia a lato quello che sarebbe stato il gol della bandiera, seppur a tempo scaduto. Bedonese dunque ancora a 0 punti e ultima in classifica, con la zona salvezza lontana a 6 lunghezze. Prima vittoria invece in terza categoria del Valgotra, un successo casalingo per 1-0 contro il Montebello, firmato Marcello Ferrari. Un fine settimana, tra virgolette, positivo per il basket valtarese, positivo ma non abbastanza per la Roby Profumi, infatti non è riuscita a vincere la sua battaglia contro il Fiorenzuola, perdendo per 52-57, davvero pochissimo. Peraltro una partita dove le ragazze del coach Allodi hanno condotto per oltre 35 minuti, subendo il primo sorpasso delle piacentini quando mancavano 4 minuti al fine gara. Un peccato per il folto pubblico presente al Palaraschi di Borgotaro, che però alla fine ha attributato il giusto applauso alle ragazze del presidente del Nevo. La partita contro il Fiorenzuola è stata sino ad ora la più convincente della stagione, e se si pensa che la Roby Profumi l'ha affrontata senza Mezzini e Bozzi, l'essere stati avanti per quasi tutta la gara lascia intravedere buone prospettive di crescita. Buone notizie invece per la squadra maschile che ha vinto in trasferta a Bibiano contro la Bibianese per 50-67. In questo caso sono stati gli uomini dell'Art Arredo che ha fatto partire questo campionato 2022-2023 con una bella e convincente vittoria. Una squadra guidata quest'anno dal coach Giordano Picelli si teneva una gara sofferta visti gli infortuni subiti nell'ultima settimana che hanno costretto l'Art Arredo a una insidiosa trasferta, potendo contare solo su otto giocatori. Invece niente mai scontate, così i ragazzi di Picelli hanno sfoderato grinte e caratteri impostando una gara che li ha visti comandare dall'inizio alla fine. In campo si è vista la grinta dei Diavoli Rossi che chiede di confermare per la prossima gara del 23 ottobre contro il Sant'Ilario al Pararaschi e i ragazzi del coach Picelli. Ovviamente sono attesi tantissimi cittadini dell'Alta Valtaro e anche oltre al Pararaschi di Borgotaro per sostenerli dopo questa prima vittoria nel campionato e anche prima partita di campionato dell'Art Arredo. E con questa notizia siamo giunti al termine del consueto appuntamento con l'informazione locale di Radio Teleappennino Parmi e vi ricordo che questa del lunedì per la nostra rete è una giornata di sport, infatti subito dopo il telegiornale ci sarà Punto Sport e poi dopo Punto Sport la partita di calcio del Parma Calcio Femminile, della serie A del Parma Calcio Femminile attorno alle 21.49 sul canale 89, così ce li ricordiamo meglio tutti. Una partita di calcio che purtroppo vede ancora sconfitte le ragazze della nostra prestigiosa società calcistica provinciale speriamo che però a breve possano arrivare dei risultati positivi. Io vi ringrazio assieme a tutta la redazione di RTI e TDG Parmense l'appuntamento con il come di consueto è per domani ore 19 canale 89. Buona serata! Grazie a tutti! Grazie a tutti!